La tecnologia Speed, integrata all'interno di Dake, è una nuova tecnologia che incrementa le performance e migliora la sicurezza dei sistemi di compressione a gas. Questa tecnologia fa uso, congiuntamente con le valvole di sicurezza, anche degli azionamenti elettrici a velocità variabile, ovvero i Variable Speed Drives. In questo modo è possibile andare a percepire il nascere del surge, del pompaggio, in anticipo rispetto ai sistemi convenzionali e andare a proteggere il compressore agendo attivamente sull'albero, quindi sul motore. Questo permette di raggiungere i regimi di massima efficienza, l'area di massima efficienza del compressore, che altrimenti è raramente raggiungibile. Inoltre garantisce un secondo sistema di sicurezza, un secondo livello di sicurezza, che prima si limitava alla sola valvola di ricircolo. Per quanto riguarda invece la tecnologia Smart Sharing, si tratta di un nuovo sistema di ottimizzazione e di bilanciamento dei carichi, che viene integrato all'interno di Dake per gestire più compressori agenti parallelo. Questa tecnologia fa uso di una raccolta continua di dati dal campo, che vengono usati per definire un modello matematico in tempo reale dei singoli compressori. Questi modelli matematici vengono ottimizzati per ottenere il punto di lavoro di ogni macchina. In questo modo la performance di ogni macchina viene soppesata e si fa sì che ogni compressore o ogni pompa lavori al massimo regime di efficienza possibile. Questo sistema fa sì che la stazione di compressione vada a sfruttare quel bacino di efficienza latente che attualmente non viene sfruttato. Questa tecnologia ha trovato un interessante uso all'interno di due stazioni di compressione facente parte della rete Transmed, dove il consumo di combustibile è stato ridotto dell'1% nella prima e del 3% nella seconda, andando a ridurre le emissioni di CO2 di una quantità pari a 7.000 tonnellate all'anno e rendendo più verde questi impianti petroliferi.